Oggi vi propongo una torta al cioccolato velocissima da preparare, soffice come quelle lavorate a lungo ma con il vantaggio di essere preparate in 5 minuti. Ragazzi provate questa torta perché è una vera e propria delizia, un dolce semplice, morbido e davvero molto goloso. La preparazione di questa torta è così semplice da non richiedere l'utilizzo neanche della bilancia, quindi ragazzi più semplici di così provate questa torta. 2 uova, utilizzo le uova L, sono le uova grandi, un bicchiere pieno di zucchero semolato, versiamo il tutto all'interno della ciotola e lavoriamo per almeno 5 minuti. Dobbiamo ottenere un composto chiaro e sfumoso. Adesso utilizzo l'olio di semi di girasole e dobbiamo riempire il bicchiere fino alla linea, come vedete qui in video. Ecco qui, fino alla linea. Versiamo il tutto all'interno della ciotola e lavoriamo per circa 2 minuti. A questo punto utilizzo il latte parzialmente scremato, però se volete potete utilizzare anche il latte intero o il latte vegetale. Ho riempito un bicchiere e mezzo di latte, come ho fatto io, oppure potete utilizzare il bicchiere misuratore, mi sembra che si chiama così, non mi ricordo, circa 250, massimo 260 ml di latte. 2 bicchieri di farina 00 di grano tenero, mezza bustina di lievito per dolci, mi raccomando sono bicchieri pieni, lavoro tutto con le fruste elettriche e poi verso il terzo bicchiere di farina. Continuo a lavorare prima fruste spente e poi aziono le fruste elettriche e lavoro per almeno 5 minuti il mio composto. 3 cucchiai di cacao amaro, continuo a lavorare sempre prima fruste spente e poi aziono le fruste elettriche per circa 2 minuti. Nel frattempo sto sciogliendo a bagnomaria 150 g di cioccolato fondente. Una volta che ho sciotto il mio cioccolato fondente, l'ho verso anche questo all'interno della ciotola e con la spatola vado ad ammagamare benissimo il mio composto. Una volta che ho ammagamato benissimo il cioccolato fondente, ricoprite con carta forno uno stampo a cerniera diametro 26. Forno preriscaldato, forno ventilato, infornate la vostra torta a 170 gradi per circa 45 minuti. La cottura può variare da forno a forno, quindi fate attenzione alla cottura e quindi fate sempre la prova a stecchino. Ragazzi, una torta semplicissima da realizzare, facilissima, veloce, senza bilancia. Che dirvi, provate anche voi questa torta a cioccolato per la vostra colazione o la merenda di tutti i giorni. Se la provate lasciatemi un commento, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi nel mio canale YouTube Cartesia e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi video. Vi aspetto su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come Ricette Golosi di Cartesia. Adesso non mi resta che salutarvi. Ciao alla prossima. Baci da Cartesia. V productivo. Ciao. Grazie a tutti